Allora, Lucio Caracciolo, ti chiedo intanto se sei fiducioso su questi negoziati di pace che torneranno a riunirsi le due delegazioni, quella russa e quella ucraina, tra qualche giorno. Non si conoscono tanti dettagli, si sa che la Russia ha chiesto il riconoscimento ufficiale della Crimea come territorio russo e la neutralità smilitarizzazione dell'Ucraina. Questo peraltro nel giorno in cui la Svizzera e la Finlandia hanno rinunciato alla neutralità, vero? Che previsioni fai tu su questi negoziati di pace? Condivido l'ottimismo di Zaitsev sul genere umano, sui negoziatori un po' meno. Non so se avete fatto vedere quella fotografia in cui si vede il tavolo con le bandiere e vediamo che i negoziatori russi non hanno un telefonino sul tavolo. Gli ucraini sì, vuol dire che i russi non hanno proprio niente da dire perché se avessero il telefonino aperto sul tavolo come ce l'hanno gli ucraini evidentemente sarebbero in collegamento diretto con Mosca e Mosca sentirebbe tutto. Quindi la delegazione russa è di basso profilo, quella ucraina è più alto però i negoziati veri, se veramente si fanno, si fanno a un altro livello e non si fanno vedere. E quindi? E quindi non si può ancora dire nulla, questo è un gesto di buona volontà che va preso come tale ma non cambia nulla. Finché io immagino i russi non sfonderanno e conquisteranno Mariupol e forse anche qualcos'altro, non credo che vorranno trattare sul serio. Lei, Irina Gulei. Lei. Lei. Lei.